Eccoci, siamo in zona San Fruttuoso e precisamente in Viadonghi. L'appartamento che proponiamo in locazione è un appartamento di sei vani, costituito da un ingresso, un soggiorno, un'ampia cucina abitabile, un bagno e due camere, una delle quali passanti. È caratterizzato sicuramente dallo spazio esterno, che è quello nel quale mi trovo, con un accesso oltre che condominiale e anche privato direttamente da un cancelletto di Viadonghi, e poi ha questo spazio vivibile esterno e anche questo posto auto grande con un cancello diretto di accesso con poi il suo accesso privato, quindi due accessi privati, uno pedonale e uno anche carrabile, dove può stare, come vediamo, adesso c'è questo furgoncino, quindi una macchina anche grande e anche un paio di scooter o di bici. Abbiamo poi un grande cantinone sottostante, si accede qui da questo cancello, quindi una taverna, e l'appartamento lo vediamo subito, è in fase di ristrutturazione, quindi ci sono ancora gli operai che stanno lavorando. Comunque io entro dallo spazio esterno, abbiamo la cucina, direttamente entriamo nella cucina, questo è l'ingresso, i soffitti sono molto alti, il bagno con una grande doccia finestrato con sanitari sospesi, pavimenti molto belli, in graniglia originale, qui abbiamo questa stanza che potrebbe essere il soggiorno, vista la sua posizione, la sua ubicazione, e poi le due camere, come dicevamo, questa grande camera, però passante, con questa quindi non indipendente, ma per raggiungerla dobbiamo passare da quella precedente. La peculiarità dell'appartamento è sicuramente lo spazio esterno, l'accesso oltre che condominiale privato, e la possibilità del posto auto. E qui possiamo concludere la nostra visita.